La bici è agonismo, competizione, velocità, ma è anche il suo opposto, contemplazione, condivisione e lentezza. La bici è un viaggio dentro al paesaggio, è scoperta ed esplorazione. Un ciclista lo sa, pedalando si viaggia e viaggiando si impara. La bici unisce, non teme le distanze e costruisce relazioni. Pensate che c'è una pista ciclabile che attraversa l'Europa da nord a sud, un percorso di 7.400 km che presto unirà Caponord e Malta, lungo un'unica arteria verde nel cuore del continente. Oggi questo percorso si arricchisce di un tratto immerso nella pianura padana, 46 km di emiglianità pura, tra piccole stazioni abbandonate e possenti ponti in metallo, attraverso una campagna apparentemente ininterrotta, che qua e là lascia spazio a scorci urbani, monumenti antichi, segreti ben custoditi. Oggi questa ciclabile collega il Brenner a Verona e da qui fino a Bologna. Presto arriverà fino a Firenze. La chiamano ciclovia del sole, chissà perché.